Ragazzi, che vi devo dire? Io sto carica a pallettoni, nel senso che si arriva a Piazza del Popolo, ditemi i cantanti, c'è qualcuno che preferite voi? Magari vi faccio venire al backstage? Ditemi! Eh? Allora, quando c'è lui ti faccio venire al backstage. La festa è importante, è tutta la musica italiana e anche i nomi che sono stati fatti oggi per la prima volta sono nomi che raccolgono anche i consensi di chi magari adesso non accende la radio da un po' di tempo, ma si ricorda anche quelle belle canzoni che ascoltava un po' di tempo fa. Guarda, abbiamo veramente tutti i gusti, tutte le persone che possono impegnare quel palco e raccontare tanto. È una festa, sono quattro giorni di festa, io non so se c'è più il fisico per agire quattro giorni di festa. Perché è così importante la musica live? Che i ragazzi vivano anche la musica live e non soltanto quella che ascoltano, insomma, tramite i vari device? Perché devono capire che c'è del lavoro dietro, perché quando ascoltano fra i vari device e rimangono ascoltare semplicemente tramite delle cuffie, quando tu vieni a vederli dal vivo e rispetti il lavoro che stanno facendo queste persone, ma non soltanto il cantante sul palco, ma tutto l'impianto che c'è intorno, tu capisci che la musica dà veramente da vivere, da sognare a centinaia e migliaia di persone. I live sono fondamentali, dovrebbero andare tutti a vedere dei live, che sia il Team Summer o che sia il concerto di un artista singolo. Io lo trovo molto, molto educativo. Sembra che ci sia più musica live da qualche anno in estate, soprattutto qui a Roma? Sì, guarda, specialmente dopo il Covid, se ci avete fatto caso, si è scatenata la voglia di andare, di sporcarsi, cioè di vedere gente, di affaticarsi. Questa cosa notata è meno male, ma pure nel teatro. Il teatro adesso, se ci fate caso, ci sono date e suddate di tantissime persone e sono quasi tutte piene ed è una soddisfazione infinita. Senti, invece a te l'emozione di vedere, anche per te, insomma, e di presentare gli artisti live, quelli che mandi in onda, no? In radio. Guarda, io sono contentissima, sono contentissima che Carlo abbia accettato. Sono felice perché sarà un'estate piena. È presente quel friccico rio? Avete presente quella cosa che quando sta arrivando il countdown senti che la vuoi fare? È un po' quella cosa lì. Un po' quando sei a teatro e sai che a breve devi vedere il pubblico in faccia. È questa cosa qua.